per il suo gruppo. Prego, per tre minuti per il Movimento 5. Allora, no, per chiarire che questi fondi non sono fondi in più, consigliere De Priamo, è una rimodulazione interna al municipio. Il municipio sta spostando internamente i suoi fondi, basta leggere l'emendamento per capirlo, e li sta mettendo da una parte all'altra proprio in funzione dell'emergenza che c'è stata. Per cui non sono risorse in più che Roma Capitale sta dando al municipio decimo, ma sono risorse interne del bilancio municipale già assegnate in precedenza che il municipio ha chiesto di poter rimodulare in funzione di quello che è accaduto. Per cui veramente sono a saldo zero piccole rimodulazioni che hanno una certa urgenza, come potrà ben capire, visto che la stagione balnearia in corso e c'è stato un ritardo dovuto al Covid che l'ha fatta partire un mese in ritardo. Adesso non voglio dilungarmi, ma questo so che lo sapete, per cui credo che sia veramente qualcosa da portare avanti con rapidità, senza dover soffermarci. Giusto che l'abbia chiesto, però volevo sottolinearle e volevo sottolineare a tutti di che cosa stiamo parlando. Grazie.